Presidente, un 1-1 che forse sta un po' stretto all'Aquila per le occasioni avute, l'Avezzano è partito bene e poi si è un po' perso perché l'Aquila ha preso le giuste contromisure. Sì, è squadra un po' sbilanciata, però oggi ha retto con l'undicesimo risultato utile consecutivo dall'inizio del 2018 e la squadra con il maggior rendimento in questo girone di Serie D. Quindi abbiamo messo un altro puzzle verso i play-off, quindi oggi abbiamo guadagnato punti su tutte le dirette avversarie e quindi la soddisfazione sta in questo. Oggi c'era una giusta cornice, sono convinto che è quella che poi speriamo di vedere nelle prossime partite e poi di coronare l'obiettivo dei play-off e quindi di raggiungere la posizione più alta nella gradatoria se tutto andrà bene di ripescaggi. Il Presidente Paris come ha vissuto questo derby? Meno intensamente delle altre volte perché avevo la necessità di dire agli avezzanesi che per me il derby è tutti i giorni e quindi vivere l'Avezzano Calcio è come vivere tutti i giorni il derby con l'Aquila. Per questo credo che non ci debba essere necessariamente una partita speciale, ma la squadra va seguita sempre e sono convinto che questi ragazzi sapranno dare il meglio di loro in questo rascio finale che mancano appunto tanti, sei partite prevalentemente in casa giocheremo quindi abbiamo questa grande opportunità e spero che il pubblico sia sempre più vicino. Si torna subito in campo, c'è questa partita contro il Campobasso giovedì. Il Presidente che cosa si aspetta? Beh, contro il Campobasso mi auguro di vedere una squadra che riesca a fare una grande prestazione. Io nelle ultime partite quando ho cominciato a capire che il terzo posto è qualcosa che riusciamo, se tutto va bene, a portare a casa al termine della stagione regolare ho detto ai ragazzi giocare con leggerezza senza pensare all'assilo della vittoria perché poi la vittoria arriva e questo lo stanno facendo da tutto il campionato.